L'ottavo libro della Repubblica di Politeia di Platone è consacrato alle diverse forme costituzionali. Platone esamina in parallelo le costituzioni e gli uomini corrispondenti, da che muove dalla convinzione che ogni forma costituzionale abbia un suo corrispettivo in un uomo affine, in un uomo corrispondente. E analizzando le varie forme costituzionali, Platone si sofferma anche sullo stato oligarchico, che è poi, nell'ottica platonica, lo stato in cui il comando non tocca chi è virtuoso e competente, ma chi è ricco. Quindi gli oligoi, i pochi che governano, che hanno l'archè nel governo oligarchico, sono i ricchi, quelli che occupano un posto di potere non per presunte virtù o per capacità particolari, ma semplicemente in ragione della loro ricchezza. E a questo riguardo Platone spiega come questa forma di governo, l'oligarchia, è quel regime, siamo in Repubblica, libro VIII 550 CD, quel regime fondato sul censo in cui solo chi è ricco a potere e i poveri non hanno posto nel comando, spiega Platone. Questa è per sua essenza l'oligarchia. E nell'oligarchia, questa è l'accusa forte che muove Platone a questa forma di governo, comandano non i più competenti, i più bravi, i più esperti, i più saggi, ma i più ricchi. E dice Platone, è una condizione del tutto paradossale, analoga a chi mettesse a comandare sulla nave non il più bravo tra i nocchieri, ma quello più ricco, quello più ricco, dice Platone. Lo stesso criterio che la costituisce, qual è? Immagino un po' che cosa succederebbe se sulle navi si facessero secondo tale criterio i nocchieri, e cioè in base al reddito, così che un povero, fosse anche il migliore dei timonieri, non avrebbe accesso a questa funzione. E di più ci si troverebbe ad avere la nave capitanata da un incapace ma facoltoso. Una perfetta descrizione non soltanto delle oligarchie, ma sempre più spesso anche delle odierne democrazie che sono di fatto nobili nomi che nascondono plutocrazie oligarchiche, dove comandano gli oligoi, cioè coloro i quali dispongono del plutos della ricchezza. Questo è il primo argomento che Platone mobilita contro l'oligarchia come plutocrazia, in realtà come governo dei pochi ricchi contro i tanti poveri. Un secondo argomento che Platone dispiega in questo ottavo libro della Repubblica è quello secondo cui la città, la polis oligarchica, è spaccata in due, secondo la dicotomia ricchi che governano e poveri che sono governati. Ma in questo modo si spezza l'unità della polis, l'armonia della polis, e lo Stato finisce per essere indebolito. Dice Platone questo Stato non è unitario, ma per forza di cose duplice, l'uno costituito dai poveri e l'altro dai ricchi. Ecco, sotto questo riguardo la polis oligarchica è una polis spaccata in due e quindi una polis instabile, non solidale, non coesa. Da un lato abbiamo i poveri che sono uno Stato nello Stato e i ricchi che comandano principalmente per il loro interesse. E quindi dice l'interlocutore per Zeus questo non è certo un difetto meno grave del precedente, quindi al primo difetto essere il governo non dei migliori ma dei ricchi, si aggiunge un secondo non meno grave difetto, quello per cui la polis oligarchica è spaccata in due, governo dei ricchi e poi poveri che costruiscono e costituiscono uno Stato dentro lo Stato. E poi, altro argomento che Platone mette in discussione, è quello secondo cui la disuguaglianza sociale tipica dell'oligarchia crea miseria e criminalità, crea miseria e criminalità. Quindi la polis oligarchica genera necessariamente miseria e povertà e anche criminalità che è la forma estrema di reazione dei poveri rispetto alla loro miseria. Quindi abbiamo un terzo elemento di debolezza dello Stato oligarchico. E poi Platone, more solito, analizza dopo aver preso in esame lo Stato, la polis oligarchica, l'uomo oligarchico corrispondente. Chi è l'uomo oligarchico corrispondente? È l'uomo che ama il denaro, filo kerdes, che ama il guadagno. E gli uomini oligarchici, dice, danno la massima importanza al denaro, trasforma tutto in moneta, è un individuo che accumula, dice Platone. Un uomo di tal genere non potrebbe mai essere in pace con se stesso, perché? Perché continuamente è animato dalla pleonexia, dal desiderio di voler avere di più, che dà luogo a un cattivo infinito, diremmo eghilianamente, per cui ogni conquista è provvisoria in vista di crescite a venire. Sotto questo riguardo l'uomo che ama i guadagni, l'uomo oligarchico, è un uomo massimamente infelice ed è il vero povero, essendo il povero non chi ha poco, ma chi vuole sempre di più. Non per nulla le ricchezze sono l'ideale sommo sia per lui che per lo Stato. Sia per lo Stato oligarchico, sia per l'uomo oligarchico, la ricchezza è il parametro fondamentale. E sotto questo riguardo è uno Stato ed è anche un uomo massimamente criticabile, dice Platone. In questo senso non credo di sbagliare dicendo che un uomo siffatto apparirebbe alla massa come un tipo particolarmente perbene, ma l'autentica virtù dell'anima, quella che nasce dalla pace e dall'equilibrio interiori, sarebbe comunque lontana mille miglia da lui. Sarebbe infatti continuamente agitato e animato da pulsioni di crescita e di arricchimento e quindi vivrebbe non in pace, intanto perché terrorizzato di perdere le proprie sostanze, poi perché desideroso, smanioso, di fare sempre nuove ricchezze. Quindi lo Stato oligarchico e l'uomo oligarchico appaiono a Platone massimamente criticabili.